Raramente mi capita, ma oggi ho voglia di mangiarmi qualcosa di dolce, così ho pensato di prepararmi un pan dolce con della cioccolata e della frutta essiccata. Ho unito tutta la parte secca degli ingredienti, quindi le farine con lo zucchero, un pizzico di sale e anche circa mezzo cucchiaio di semi di cardamomo pestati con il mortaio. Adesso è il momento di aggiungere il lievito che ho precedentemente fatto attivare. Ho utilizzato mezza bustina, solo metà della bustina di lievito secco da 25 grammi, quindi ho usato la metà, circa 13 grammi di lievito. L'ho fatto attivare con dell'acqua tiepida e dello zucchero, così come è indicato sulla busta. A questo punto aggiungo anche la parte liquida. In totale ho fatto scaldare 300 ml di latte vegetale. Io ho utilizzato il latte di riso. È proprio il caso di dirlo adesso. Mani, impasta! Questo è il risultato del mio impasto che ho appena ottenuto. Lo lascio riposare. Dopo un'ora e mezza che ho lasciato lievitare l'impasto, lo riprendo. Adesso unisco all'impasto tre albicocche, al naturale, albicocche biologiche. Lasciate essiccare senza assolutamente l'aggiunta di zuccheri. Le taglio a cubetti e le aggiungo all'impasto. Ma aggiungo anche del cioccolato. Cioccolato extra fondente, anch'esso senza aggiunta di zuccheri. E qui dipende un po' da voi quanto metterne. Io metto solamente questi 9 cubetti. E sono quindi circa 100 grammi, nemmeno 80 grammi. Le taglio a scaglie con un coltello e le aggiungo all'impasto. Adesso è il momento di impastare di nuovo per amalgamare bene tutti gli ingredienti. L'impasto è molto morbido e quindi facile da lavorare. Adesso appoggio l'impasto su una pirofila da forno. Vedete voi che forma dargli. Si potrebbe fare un bel treccione, si potrebbe lasciare anche così, come una bella pagnotta dolce. Lasciamo riposare l'impasto per un'altra ora e mezza. Dopo lo cuociamo in forno a 175 gradi per 45 minuti. E il nostro pane dolce è pronto.